I violenti nubi fragi che hanno colpito il Piemonte nella giornata di ieri hanno scaricato a terra un'impressionante massa d'acqua che dopo aver travolto strade e case si è riversata nel Po. Il grande fiume ha iniziato a ingrossarsi e a scendere verso valle, arrivando a Piacenza dove il passaggio della Piena è previsto a partire dalla serata di oggi e domani potrebbe arrivare a lambire la soglia di Allerta 2. La furia della Piena ha portato con sé anche una cisterna che nel primo pomeriggio è transitata nel tratto piecentino mettendo in allerta la prefettura, la quale aveva disposto la chiusura temporanea dei ponti ferroviario, stradale e autostradale, tutti riaperti poi poco prima delle 15.30. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco e i militari del genio pontieri che in un intervento congiunto reso complicato dalla furia dell'acqua sono riusciti ad avvicinare la cisterna con alcune pilotine e a trascinarla a riva dove è stata assicurata con cavi d'acciaio in attesa di essere portata sulla terraferma. La cisterna è vuota e non contiene sostanze pericolose. È stato un intervento assieme ai vigili del fuoco, un intervento abbastanza complesso, è stata una bella sfida devo dire ma un bel gioco di squadra, si è visto veramente un bel gioco di squadra, l'esercito assieme ai vigili del fuoco siamo riusciti a prima spostare la cisterna verso la sponda del fiume e poi a metterla in sicurezza. Siamo riusciti, sempre collaborazione dell'esercito, a ancorare la cisterna qui a riva, sulla riva del Po, adesso noi la ancoreremo con un cavo d'acciaio in modo molto più solido di modo che anche se ci fosse un'ulteriore piena del Po la cisterna riesce a rimanere al suo posto e poi con calma organizzeremo un intervento per il recupero della cisterna stessa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, polizia, polizia ferroviaria, mezzi di soccorso e croce verde ambiente.